L'innovazione tecnologica al centro del diciottesimo meeting annuale di urologia. Questo fine settimana, addetti ai lavori da tutta Italia, si sono dati appuntamento a Villa Serena di Città Sant'Angelo per il congresso nazionale di questa branca della medicina e della chirurgia. Quest'anno l'incontro è all'insegna della multidisciplinarietà. Noi crediamo molto nei team multidisciplinari in quanto ci sono tante patologie che prevedono questo tipo di approccio. Noi quest'anno abbiamo voluto introdurre anche un tema molto importante che è quello della rivoluzione del microbiota. In pratica il microbiota è molto importante in quanto la medicina basata su di esso ha rivoluzionato un pochettino l'approccio a livello medico. I microbi che popolano il nostro corpo insomma hanno ripercussioni positive o meno non solo sul fisico ma anche sulla mente regolando perfino l'umore. Questo lo studio frutto degli ultimi progressi scientifici in un settore che è in continuo aggiornamento. La scienza va avanti e pare sia calcolato che ogni due mesi cambiano le tecnologie e cambiano non sempre le abitudini perché il medico resta pur sempre un filosofo che applica la sua intelligenza, il suo sentire al rapporto col paziente. Ma il mondo scientifico è in evoluzione continua. Tant'è vero che una delle relazioni di questo evento e che dovrò ottenere io è quello che riguarderà l'intelligenza artificiale. Un'occasione il congresso anche per ricordare l'importanza della prevenzione. Una sana alimentazione e una vita poco sedentaria aiutano a salvaguardarsi da patologie di tipo urologico. L'urologia come tutte le discipline del nostro organismo si basa sulla diagnosi, sulla terapia ma prima ancora a monte di tutto sulla prevenzione delle patologie. Pensiamo per esempio alla classica patologia che tutti conosciamo che è la calcolosi urinaria. Prevenzione che si basa sia sull'alimentazione, soprattutto sull'alimentazione, sugli stili di vita, sull'evitare abusi di alcune sostanze e soprattutto fare una sana vita.